E' bello a tutti ragazzi e bentornati in questo Versus, finalmente torniamo con un Versus Saddi Questa è pesante, questo è pesante ragazzi, un argomento pesantissimo In mia compagnia c'è il buon vecchio Saddi, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi E come sempre questi oggettisti, questo hardware è offerto da FK che vi lascio il link in descrizione E che ringraziamo Che ringraziamo e lasciatevi un bel like, almeno continuo a fare questi video Detto questo ragazzi, oggi toccheremo un argomento molto particolare in questo Versus Ovvero la 1060 da 6GB e la 1060 da 3GB Abbiamo deciso di toccare questo argomento perché c'è molta confusione Come sapete noi abbiamo anche un gruppo su Facebook dove dispensiamo consigli a OE così dove capita E abbiamo visto che è un argomento che sta molto a cuore e soprattutto è molto confusione E' molto combattuto, ecco Allora, direi che possiamo iniziare innanzitutto parlando proprio delle due schede Perché hanno lo stesso nome Esatto Però non sono la stessa scheda Non hanno la stessa Cattiva invidia Detto questo vogliamo fare una piccola premessa ragazzi Sono due schede buonissime per giocare Per carità Quello che vogliamo andare noi a contestare è il rapporto qualità-prezzo Esatto Perché giustamente tutte e due fanno bene e funzionano Non è che hanno problemi, oddio non funziona, blocca tutto Per carità Semplicemente come sapete hanno un prezzo elevato Senza che diciamo il prezzo perché ogni volta cambiano L'informatica cambiano addirittura ogni giorno Esatto C'è molta confusione e quindi abbiamo deciso di testarle entrambe Diciamo che tra l'altro il prezzo tra le due schede non è che sia poi tanto diverso Non è che abbiamo una differenza di prezzo così elevata Ed è questo il punto su cui andremo a battere Perché infatti Abbiamo i nostri dati Noi abbiamo studiato, li abbiamo testati, abbiamo i risultati Noi siamo studiati Siamo studiati Comunque vai iniziamo Abbiamo un foglio con I dati delle schede I dati che abbiamo riscontrato Un foglio con le caratteristiche tecniche analizzate nello specifico Allora Parliamo innanzitutto dalla sorella Maggiori Che in questo caso è la scatola più piccola Noi giustamente, estando da LFK Store che nel negozio di PC Abbiamo utilizzato due schede che erano disponibili Quindi in questo caso sono una pallet e una gigabyte Allora Partiamo dalla 1066 gigabyte Esatto Allora, ha un clock di base di circa 1500 MHz Più o meno la 1066 gigabyte è quella lì Ah, se non sbaglio Aspetta, metti il foglietto Noi abbiamo il foglietto apposto che possiamo segnare 1280 kuda-cords Che non sono pochi Ricordiamo che però dalla serie 900 in poi Non c'è più l'accelerazione attiva dei kuda-cords Quindi sono buone per giocare Per editare un pochettino meno Quindi anche se si ama kuda Non è che per editare vanno proprio benissimo Poi abbiamo 80 tmu Vabbè, sono di 48 euro Però questa qua su tutte cose uguale Ma soprattutto un valore Abbastanza importante È quello dei flops Praticamente qui abbiamo Su questa 1066 gigabyte 4.375 giga flop E adesso vedremo che questo valore Sarà particolarmente più bassino Nella 1066 gigabyte Esatto Perché infatti, Manuel La 1066 gigabyte Che cosa dobbiamo? Ha una media di un 10% in meno Di tutte queste cose elencate Tranne per il clock e il ROP Ovviamente, ragazzi, i kuda Sono un 10% in meno 1.152 E invece, come dicevamo prima Anche i flop sono del circa 10% Ha un valore il 10% più basso Abbiamo deciso di testarle Su tre giochi Crysis, Fallout E League of Legends Perché League of Legends lo sapete E abbiamo riscontrato Una grossa differenza Beh, diciamo che La differenza strutturale Della scheda Che apparentemente Sembra solo il 10% In realtà sui badge Non è andata così Perché Esatto Quando si vanno a sfruttare degli applicativi Non è che c'è proprio Una relazione uno a uno Dello, posso dire Dello sfruttare le risorse C'è sempre, diciamo Un pochettino di diversità E soprattutto In alcuni casi La differenza È molto più alta Del 10% E ricordiamo soprattutto Che il limite Di questa scheda Sono proprio I 3 gigabyte Di VRAM Che in un caso specifico Poi Ne parleremo Come partiamo dal primo Esatto, noi abbiamo deciso Piccola premessa Perché abbiamo scritto Proprio tutte le caratteristiche Nello specifico Proprio per farvi vedere Che era un 10% preciso E meno Che poi non era Così tanto 10% Come ha già detto Sardi in game Allora Partiamo dalla 1.060 Da 3 gigabyte Che è quella che giustamente Costa meno Su League of Legends Avevamo una media Dai 200 E 245 fps E staranno vedendo adesso Penso di Sì 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 E poi Poi sarà bravo In YouTube Vedremo gameplay Sentirete gameplay Sotto la voce Mi metterò anche le statistiche E un 30-40% Di utilizzo della GPU Su Crysis Invece Abbiamo Dall'80 A 90 fps Mentre invece L'utilizzo della GPU Non va considerato Fallout invece Aveva una media Di 60 fps Perché sono bloccati A 60 fps Come tutti sappiamo Sardi ha scoperto Che la cucina Nel tutorial L'iniziale È la parte Che sfrutta di più La scheda video E abbiamo notato Una cosa Cosa che studia Sardi Cosa che studia Sardi Ragazzi Sardi in cucina Commentate con Sardi in cucina Se volete un altro Versus Oddio Abbiamo scoperto Una cosa molto particolare L'utilizzo Della scheda video Era al 99 Scusatemi Per cento In cucina E questo è un dato particolare Adesso ci arriviamo Adesso ci arriviamo Passiamo alla 6 giga La lascio Dirassati Sennò sembra che sta Allora Partiamo con la 166 gigabyte Sull'all Abbiamo fatto Una media Tra i 300 E 350 fps Massimi Il valore di riferimento Che in teoria Dovrebbe essere Il 10% in meno Qui invece Siamo su un buon 20% in meno Anche qualcosina In più E devo dire Che Su un gioco Del genere Dove Praticamente La cpu È molto forte Una differenza Del genere È pesante Inizia a diventare Pesante Passiamo poi A crisis Crisis 3 Sappiamo Che è un gioco Mattone La 1060 Da 6 gigabyte Lo gestisce Che è un amore Ovviamente Le due schede Sono state Provate Entrambe In full hd Stessi dettagli Gli stessi dettagli C'è il ciso Che ho fatto La config Che non so Ma sono sincero Non so se Scirà prima La config Con questo video Però Andate sul canale E cercatelo Ok Praticamente Su crisis Che cosa abbiamo Abbiamo dei valori Tra i 100 E i 120 fps Ancora una volta Si rinnova Questo distacco Della scheda Superiore al 10% Stiamo parlando Anche di quasi Il 20% La cosa particolare La cosa particolare Invece Che praticamente È questa qui È su fallout 4 Dove gli fps Sono cappati a 60 Di conseguenza Anche la 1060 Da 6 gigabyte Fa 60 fps Ma Nello stesso Identico punto Dove la 1060 Da 3 gigabyte Fa il 99% Di utilizzo La 1060 La 6 gigabyte Fa solo Il 35% Un terzo È praticamente Un terzo Di quell'utilizzo E sapete perché Perché quello È uno dei punti In cui La VRAM Della 1060 Da 3 gigabyte Viene saturata Di conseguenza Arrivata a quel punto La scheda Si sta automangiando In quel momento Si sta proprio a morire E quindi Praticamente Esplode Dal punto di vista Dell'utilizzo Mentre la 1060 Da 6 gigabyte Appunto Che è il doppio Della VRAM Riesce a gestire Quella situazione In modo Normalissimo E tranquillissimo Però Manuel La differenza importante È proprio Quella di prezzo Esatto Diciamo che c'è un 20% Di differenza Di prezzo Tra uno e l'altro Utilizziamo le percentuali Facendo video Sull'informatica Abbiamo capito Che la cosa migliore È di solito Utilizzare i percentuali Perché Lo spieghiamo un attimo Come abbiamo detto Anche inizio video I prezzi In informatica Cambiano ogni giorno Quindi noi Se adesso Diciamo Questa costa 100 Tra tre giorni È capace Costare anche di più O di meno Quindi dipende Quindi diciamo Che il costo È accessibile Molto spesso Visto la differenza Magari Rinunciando A portare due volte A cena La ragazza Riuscite a farmi Invece che quella Da tre giga Quella da sei giga Quindi lasciate la ragazza E fatevi sicuramente Quella da sei giga Se riuscite Soprattutto perché A parte lasciare la ragazza Che non penso sia una grande idea Però comunque Partiamo dal presupposto Che questa qui La tre gigabyte È una scheda Che si è trovata In difficoltà Con un gioco Del 2015 Esatto Siamo nel 2018 Cari ragazzi Non è un problema Da poco Visto che comunque Parliamo in questo momento Di più di 200 carte Esatto Poi dipende ovviamente Tutto dipende Dall'utilizzo Che non vuole fare Quindi quello È normale Detto questo Io direi Questo versus Termina qui L'abbiamo fatto semplice Abbiamo detto le cose precise Come stanno Importanti Se volete un altro versus Tirate una carrellata Di like Iscrivete al canale 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 Suggeriteci nei commenti Un altro versus Che vorreste vedere E ci vediamo al prossimo video Ciao E ci vediamo